Il governo porne le basi per un rientro dell'ex-ILVA sotto una guida italiana. Il decreto legge denominato Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale è stato presentato dal Ministero per le imprese e il Made in Italy e da quello della giustizia. Il decreto prevede che i 680 milioni già stanziati possano essere utilizzati fin d'ora quale finanziamento soci convertibile in futuro aumento di capitale. E' proprio questo il punto di maggiore interesse strategico. Infatti attualmente le quote societarie dell'ILVA dopo la fuoriuscita dalla famiglia Riva per il 62% sono in mano agli indiani di ArcelorMittal e solo il 38% del capitale è invece in mano a Invitalia società pubblica che già nel 2024 potrà prendere il timone dell'ex-ILVA scalzando ArcelorMittal. In quel momento Invitalia diventerebbe primo azionista con il 60% delle azioni proprio grazie a un aumento di capitale. Nel 2024 quindi i 680 milioni di oggi riemergeranno per finanziare, almeno in parte, l'aumento di capitale necessario. Il governo, dopo la gestione decisamente problematica avvenuta in questi anni ad opera degli indiani, ha deciso di esercitare una Golden Share che assegna ad Invitalia una sorta di potere di veto sul management aziendale. In qualsiasi momento, già nei prossimi mesi, la società pubblica italiana potrà chiedere che l'ex-ILVA passi in amministrazione straordinaria. L'alto là arriverà nel caso in cui la gestione della fabbrica si confermi inadeguata. Sempre il governo mette in conto che la sempre più zoppicante acciaieria possa incamminarsi verso il baratro. In futuro la magistratura potrebbe infliggere all'azienda una sanzione interdittiva che comporte in alcuni casi il completo blocco delle attività produttive. Ultimo punto, non sicuramente per rilevanza, è l'interesse strategico nazionale. La fornitura di acciaio è di rilevanza strategica per il Paese, motivo per il quale il governo ha offerto lo scudo penale ai soggetti che si occuperanno di mandare avanti l'attività produttiva. Proteste dai sindacati che hanno preannunciato uno sciopero di 32 ore, dalle 23 del 10 gennaio alle 7 del 12 gennaio, contro il decreto, esprimendo la contrarietà alla non punibilità del managgimento aziendale e al finanziamento dei soci.